Finalmente il grande volley torna protagonista a Milano, qual è l'obiettivo di questa Power Volley? Allora, abbiamo una grande responsabilità quella di riportare Milano al massimo vertice a Palavolo Nazionale. Io credo che la nostra squadra debba comportarsi in modo tale da avere pari dignità con tutte le squadre del campionato. Il primo anno è inutile illudersi sul fatto di poter vincere il campionato, però quello che sarà il nostro obiettivo è quello di dimostrare con tutti il valore di Milano e cercare di, nell'arco di qualche stagione, riportare ai massimi vertici questa squadra. L'avventura non sarà sicuramente facile, anche se è una sfida affascinante quella di portare i riflettori della grande Palavolo in città. Assolutamente. Milano è difficile, Milano non accetta. Quando arrivi secondo ce n'è già uno di troppo, per cui è chiaro che il portare la grande Palavolo a Milano è una sfida complicata, però allo stesso modo da una persona come me che arriva assolutamente dalla base, riuscire a coronare questo sogno e provarci con Milano è una grandissima soddisfazione.